Buona la prima, il Foggia in rodaggio incompleto fa un sol boccone della potenza e parte col botto. I rossoneri, affidati da poche ore a Marchionni, ma guidati da Cau, battono 2-0 i Lucani e si mettono alle spalle, giorni tormentati. Nel deserto dello Zaccheria si comincia con il minuto di raccoglimento in memoria di Francesco Traiano, il giovane scomparso in seguito ad una violenta rapina. I rossoneri si schierano con un 3-5-2 mascherato, Curcio gioca in appoggio ad Andrea. Il primo rischio, il Foggia lo corre in seguito ad una ripartenza degli ospiti, Giuliano calcia sul fondo. Nuovo brivido al ventiquattresimo, la conclusione di Sandri sfugge alla presa di Fumagalli che si rifugia alla meglio in calcio d'angolo. Prima dell'intervallo è però il Foggia a passare, minuto 43. Sugli sviluppi di un corner, Germinio rifinisce la sponda di Gentile e da due passi fa secco Marcheggiani. Un attimo prima del riposo, occasionissima per il Potenza. Cianci spizza, palla sui piedi di Ricci che dall'altezza del dischetto sciupa, esaltando i riflessi di Fumagalli. In apertura di ripresa il Foggia alla palla del 2-0 d'Andrea in becca Curcio, l'ex catanese si fa però anticipare dal portiere in uscita. La storia si ripete poco dopo ma gli attori si invertono, questa volta è Curcio a lanciare a rete d'Andrea ma è sempre Marcheggiani a salvare in uscita. Il Potenza si rivede al 62esimo, traversone dalla destra, vola in cielo Ricci ma Fumagalli è super e salva con una prodezza. Girandola di Cambi nel Foggia, dell'Agnello prende il posto di D'Andrea e all'ex enfant prodige dell'Inter bastano soltanto tre minuti per chiudere i giochi. 71esimo sgroppata sulla sinistra di Di Masi, cross basso e tapin vincente in spaccata di Dell'Agnello per il 2-0 che mette al sicuro il risultato. Per l'attaccante giunto in settimana e che in campionato non giocava dall'aprile del 2019 è la fine di un incubo. Si chiudono i giochi e per il Foggia è festa, primo squillo al debutto in C e primi preziosi tre punti. Non c'è tempo però per goderseli, mercoledì si torna di nuovo in campo per sfidare sempre allo Zaccheria il Bisceglie nel recupero della prima giornata. Grazie. 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 Grazie.